Buongiorno, Motorpep e Bike. Oggi presentiamo una bicicletta usata, una i-bike modello sduro Hard 7 RX, ruote da 27,5, motore PV con batteria da 400. Il cambio è un Deore XT Shimano a 20 rapporti. Dischi freno di grosso diametro, forcella Fox da 32 mm con blocco al manubrio comando remoto, perno della ruota ingrossato, bicicletta che ha percorso solamente 300 km. È arricchita da un reggisella suntura ammortizzato, acquistata da una signora che non l'ha adoperata, l'ha adoperata pochissimo e l'ha permutata con una trekking. Bicicletta che vendiamo a 2500 euro, diamo garanzia due anni. Da nuova costava 3300 euro. È un'ottima fare, venite a vederla e a provarla. Arrivederci e grazie. Grazie a tutti.